buongiorno eccoci di nuovo sedute comode bentornati parliamo ancora di social perché c'è un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore ed è la comparizione nelle foto e quindi nei post delle persone perché mi sta a cuore perché quando un albergatore ci dice ma i nostri post pochi like pochi commenti poca interazione dopo andiamo a vedere no scrolliamo scrolliamo e notiamo che magari c'è un unico post in cui si vede lui sua moglie e i suoi figli e quel post li ha avuto un tasso di interazione molto più alto ogni volta succede questo le foto con le persone migliorano di molto le loro performance le persone quali non sono persone a caso devono essere persone che realmente lavorano in quell'albergo possono essere delle persone dello staff sì anche se sarebbe opportuno che fossero persone che stanno a lungo nello staff e che quindi siano riconoscibili anno dopo anno l'ideale proprio ideale 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 è che la faccia dell'albergo sia uno dei titolari che sia la mamma che sia la nonna che sia il figlio o la figlia non importa però l'ideale sarebbe che uno dei titolari ci mettesse la faccia che succede che non a tutti piace essere protagonisti stare davanti alla telecamera stare davanti alla macchina fotografica è una questione di carattere di attitudine ci sono persone molto schive molto timide e molto riservate queste persone quando proponiamo guarda dovresti farti fotografare tu e queste persone dicono io no non comparirò mai non riuscirete mai a fotografarmi non lo voglio fare né io nei miei figli nei miei parenti nessuno quando la scelta è questa si prova con lo staff o altrimenti si continua a realizzare dei post magari con l'elemento antropico quindi le mani o un busto inserito nell'inquadratura senza i visi quello può essere un compromesso poi ci sono alcune persone che alla proposta ci devi mettere la faccia sono molti tubanti moltissimo perché non l'hanno mai fatto però però diciamo che accettano di essere fotografate in modo parziale quindi un passaggio sfocato su un in un contesto invece perfettamente a fuoco quindi le mani che fanno la pasta queste situazioni qui poi ci sono quelli che superano anche la timidezza e che quindi piano 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 accettano di mettersi in gioco perché capiscono che per il bene dell'azienda bisogna fare anche questo e quindi superano pian pianino la timidezza e diventano effettivamente la faccia dell'azienda poi ci sono anche le persone che invece non vedono l'ora di far questo e quindi lì quelle sono le situazioni più congeniali in assoluto no quando hai qualcuno che non vede l'ora di apparire comparire raccontare allora tutto si facilita di molto ok quindi vi porto un paio di esempi che mi piacciono molto sono due profili instagram e uno si chiama tenuta di murlo ed è in umbria è una tenuta bellissima manco a dirlo e quindi hanno qualsiasi foto video della d'ambiente come li chiamo io sono favolosi per correttezza vi dico che nessuno di questi due esempi seguito da noi però mi piacciono molto secondo me lavorano molto bene questa tenuta di murlo cos'ha di speciale c'è la titolare che parla tantissimo al suo pubblico per inciso hanno 61 mila e virgola due seguaci insomma followers quindi non è poco è un sono otto soluzioni abitative quindi non è un mega albergo di catena insomma tecnicamente un bed and breakfast molto bello per carità però un bed and breakfast e c'è lei che è veramente la faccia della dell'azienda fa le video ricette che voi direte è che c'è di nuovo lo fan tutti in cucina a preparare le ricette tipiche però lei lo fa in modo molto particolare allora premetto questa cucina è una cucina tradizionale quindi c'è il fuoco e ci sono tutte le padelle appese al muro e c'è il gatto che dorme sulla finestra e tutto insomma tutte queste ciotole scelte tradizionali del luogo insomma c'è una grande attenzione all'artigianato umbro e le ricette ovviamente sono tutte molto tipiche la cosa bella è che lei esegue queste video ricette sempre con un sorriso da qui a lì quindi insomma risulta simpaticissima risulta molto vera e non è non è passata dal parrucchiere insomma palesemente prima di fare quei video e neanche dall'estetista quindi è proprio lei e mischia l'italiano con l'inglese agilmente li mischia proprio quindi dice cose come welcome alla tenuta di murlo e poi dice adesso now we have to cut the aglio and let's take ciotola e quindi mischia proprio completamente italiano inglese è sicuramente una struttura che ha in tempi normali una certa percentuale di stranieri una forte percentuale di turismo estero quindi sicuramente parlare l'inglese lì è del tutto normale e lei mischia però perché ha capito benissimo che l'italiani mantenere l'italianità è un elemento di forza no perché il turista quando viene da dal belgio per dire in un posto del genere e io me lo immagino rimane estasiato rimane estasiato da tutto dall'ambiente da quello che mangia e da lei che si è così tanto italiana nello stesso tempo spiega loro le cose in inglese quindi lei ha un bel successo meritato secondo me e ogni cosa che fotografano e che filmano è curata curatissima quindi fanno le cose per bene e poi ha trovato questo suo modo tutto particolare no di di eseguire le video ricette quindi trovo che sia un bellissimo esempio un altro un po diverso e si chiama dimora di campagna ed è una una sempre un bed and breakfast è una casa antica insomma del del diciassettesimo secolo se non sbaglio si trova in veneto tra treviso e venezia ed è una casa che viene tramandata di madre in figlia no nei secoli dei secoli e quindi oggi è gestita da una una signora sempre molto elegante che deve essere piuttosto timida perché non guarda mai in macchina quando viene fotografata però viene fotografata in modo perfetto in ogni gesto di cura che lei compie quindi come mette la tavola e come accende le candele come sistema un quadro insomma niente di è veramente perfetta ma la protagonista di questo profilo instagram che ha molti meno followers dell'altro e ne ha 6.000 e qualcosa comunque un bel numero insomma ragguardevole di di followers la protagonista vera dicevo è la mamma di questa signora e la chiamano donna clara e da 88 anni che fanno su questo profilo mettono la signora con una gallina in braccio o col gatto con una tazza di tè su un servizio sempre servizi bellissimi oppure di fianco al fuoco oppure in giardino vicino alle piante quindi sempre un contesto scelto e particolarmente curato la signora che fa racconta parla racconta è una nonna una nonna bellissima perché la signora è di una grazia di una finezza di un'eleganza veramente uniche e anche con la gallina in braccio lei rimane comunque fine ed elegante e racconta racconta cose sempre cose riguardanti quella casa e chi ha conosciuto chi i nonni come si sono sposati il ricevimento dove è stato fatto la guerra e tutto tutti i racconti di hanno detto in 88 anni di vita ce n'ha di racconti in più insomma i racconti dei suoi genitori e dei suoi nonni quindi la signora è un vero pozzo di sapienza in merito a quella casa ogni video della signora scatena i commenti quindi vedo che ha almeno 250 commenti ogni video a cui risponde la figlia ovviamente perché la signora anziana non credo che si metta a rispondere a tutti i commenti di instagram sono anche molto puntuali e veloci nel rispondere e cercano di non tralasciare nessuno quindi fanno un bel bel lavoro è un engagement importante su 6.000 followers 260 270 commenti ogni volta che posti la signora che racconta allora mi viene in mente nei vostri alberghi non avete una nonna una mamma una persona può essere una persona anziana che racconta la località 30 40 50 anni fa 60 anni fa e che il vostro hotel ambasciatori 8 stelle era in realtà la pensione da zia alina e quindi è cresciuta man mano e poi avete annesso quello di racconti ce ne sono una marea specie se l'azienda di famiglia non avete un nonno potete essere pure voi in persona potrebbe essere vostra moglie vostro marito un figlio adolescente può essere chiunque se riuscite a individuare nella vostra famiglia di titolari una persona che si 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 faccia avanti e che voglia raccontare voglia dire voglia e quello un punto a vostro favore è il racconto in assoluto più potente più bello più reale che possiate dare ai ai seguaci dei vostri dei vostri profili sui social questa questione del del metterci la faccia è importante in non solo sui social noi lo vediamo sui crm lo vediamo nelle recensioni fateci caso quando leggete una risposta una recensione su triple advisor per ipotesi e leggete la direzione oppure lo staff il ricevimento come firma cioè la cosa ti spegne invece è bello leggere lucia del ricevimento oppure paolo titolare no volete mettere nome e cognome non sono nome di battesimo va bene però il nome di battesimo cambia completamente la resa avvicina avvicina le persone a voi nei crm una volta quando nacque nacque il crm no al 6 7 anni fa il preventivo il template del preventivo non prevedeva la faccina della segretaria col suo nome di battesimo non c'era questa cosa è stata aggiunta dopo quando è stata aggiunta si è proprio visto che cambiava completamente il tasso di conversione di quei preventivi perché perché vedere in faccia chi ci ha scritto e conoscerne il nome di battesimo ci mette a nostro agio ci avvicina siamo più spronati a scrivere in chat a cercare no ad avere un contatto quindi questa questione del metterci la faccia sui social poi è ancora ancora più evidente fa veramente la differenza se fate una prova avete una sfilza di post senza il vostro viso mettete il vostro viso vedrete che differenza che fa se siete voi la persona di riferimento in albergo chiaramente quindi vi lascio ai vostri diciamo ai vostri esperimenti e ricordatevi sempre che sì è una cosa che si può fare in casa e anche può essere gestita in collaborazione con dei professionisti che vi alleggeriscono di molto il lavoro è chiaro che ci deve essere una una collaborazione molto stretta con questo e termino anche questa puntata sul comparire di persona sul canale social dell'hotel e ci vediamo alla prossima seduta comoda grazie a tutti